roma 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 ok bene gente eccoci qua ad un nuovo video dove oggi voglio parlare delle alcune piccole cose naturalmente sono qui magari mi sentite un attimo male perchè ho il microfono cioè audacity che registra malissimo quindi voglio parlare di il telefono dai mamma si sente da qua comunque volevo parlare di di come vi state vedendo sotto vabbè ho c'è un video sotto cioè sto costruendo la casa di per il let's play di minecraft revenge che penso di continuare assolutamente perchè mi diverto e ora sto costruendo e vedrete forse anche una grafica un pochino più basso o più alta poi è più diversa però è più diversa che cazzo vuol dire comunque è carina come cioè sto usando di history perchè mi lagga di meno forse non lo so poi la technique pack è difficile cioè mi laggava con fraps quindi ho provato con questa nuova qualità ma come state vedendo sto facendo un attimo la casa su cosa sulla technique pack è una cosa semplice ho fatto una delle mie casette di merda però dai è abbastanza semplice ho preso e ho fatto un po' di roba ora vedete tutto velocizzato perchè di certo non è bello vedere gli hash video dove costruisco una casa di merda comunque è voglio parlarvi vediamo al punto perchè ho fatto questo video molti si stanno lamentando del del fatto che non faccio video spesso cioè ne faccio anche troppo spesso perchè contando che c'è gente che ne mette una al mese vabbè non facciamo cioè possono fare quello che gli pare però contando quelli lì e vi dicevo ehm allora cioè mi metto mi metto a decidere una cosa sinceramente o posso fare come come fanno in molti in tantissimi cioè faccio video spesso cioè diciamo carico ogni giorno però non è che può succedere sempre tutto qualcosa di speciale perchè se ci fate caso in ogni mio video in ogni mio video di minecraft di qualunque cosa ci deve essere almeno qualcosa che faccia ridere perchè io se no non carico niente se vi faccio vedere la mia cartella di fraps pesa 210 gb perchè ci sono mille video mai caricati perchè non mi facevano ridere e avevo paura che non vi piacessero a voi quindi cioè sono duro con me stesso quindi io caricavo sempre video cioè mi viene anche difficile di questi tempi registrare che succeda qualcosa di divertente per forza che vi faccia ridere quindi io non carico spesso per questo quindi decidete voi o faccio dei video spesso ma non sempre succederà qualcosa di divertente vabbè c'è sempre qualcosa di divertente trovo qualche cazzata farò morirò di creeper come al solito oppure come sto facendo ora di solito meno video ma c'è sempre qualcosa di speciale che però a me mi causa qualcosa cioè è più difficile per me va bene con questo spero avervi detto tutto la casa la vedete ora com'è normale vetri casse e tutto va meglio ragazzi con questo vi saluto buonanotte ciao ciao